Allora adesso volevo qua Daniel, grazie Daniel, ecco invece qua vado più veloce nel senso che dobbiamo fare delle rappresentazioni vostre e volevo qua Daniel per spiegare invece a tutti gli spettatori, alle persone che sono qua presenti, Daniel nonostante la sua giovane età mi ha rappresentato quest'anno ogni sua ferma, nel senso che Daniel è un presentatore tv, è un cantante straordinario, hanno riarrangiato dei pezzi, hanno preso insieme dei grandi artisti con loro per fare dei grandi spettacoli e in più abbiamo modo di vedere anche Daniel in diverse puntate tv e in diverse emittenti di tutta Italia dove lui invece ha questo grande approccio invece anche con le carte, quindi con la cartomanzia, quante cose belle fa questo ragazzo, Daniel per tutte queste cose io ho pensato di rappresentarti, tu non vieni da Padova quindi diciamo è romano ma vieni da Padova, quindi questa sera lieti di averti qua per ospitarti per questo osseo, vuol dire qualcosa alle persone presenti di te? ma io intanto ringrazio te Samuel per avermi invitato, questo grazie a te tante cose perché comunque la politicità, sì beh in effetti dove lavoro sono tante, la 9, Canal Italia, insomma a volte non lo so nemmeno io e lui, ad un'onda che è il vero però ecco mi esprimo un po' in tutta la mia arte perché l'importante è l'espressione, l'espressività fatta in maniera sana, intelligente, pulita per comunicare, quindi mi ritengo un comunicatore un comunicatore grande, un comunicatore grande che comunque ha dato modo e volevo dirlo per tutti quanti per conoscenza ha dato modo ai media e anche le televisioni italiane di capire invece questo messaggio, al di là delle camere veramente deve arrivare, deve sfondare qualcosa e tu veramente con l'animo e questo grande karma che tu hai, sei riuscito a farlo, così come riusci a farlo con questo bellissimo spettacolo che andremo a presentare questa estate invece nelle piazze estive, chi si chiama? io uno spettacolo si chiama Daniel & Coquette dove sono accompagnato da due splendide showgirl e due ballerine, noi riportiamo tutti i più grandi successi italiani in versione dance quindi tutto riarrangiato, con costumi molto originali, coreografie frizzanti, uno spettacolo comunque molto molto comune noi due abbiamo una cosa in comune prima di premiarti ed è una grande artista che questa sera è qua col cuore ma non è qua fisicamente che è Marzia Sedo che noi salutiamo, ringraziamo che ci ha unito anche in questo grande passaggio artistico voglio qua il patron del cuore matto dove anche Marzia ha lavorato ecco qua, abbiamo qua l'Oscar del cuore per sé rieti di averti qua, dopo ci farai vedere, ascoltare qualcosa di te come grande artista come Marzia Sedo ok, ok grazie, grazie Daniel